I costruttori edili del Lancia in Sicilia arrischio quasi un miliardo di euro per la rigenerazione urbana con i fondi del PNRR. La replica del ministro Raffaele Fitto. Non è vero! Alla Sicilia sono stati assegnati un miliardo e 149 milioni di euro del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per finanziare interventi di rigenerazione urbana e secondo Lancia, l'Associazione Nazionale Costruttori edili, a seguito dell'ultima revisione del PNRR, quasi un miliardo di investimenti in rigenerazione urbana in Sicilia rischiano di essere stromessi dal Piano. Si tratta in dettaglio di 360 progetti, 253 di rigenerazione urbana, pari al 70% e di 107 interventi dei Piani Urbani Integrati, pari al 30% per un valore di 922 milioni di euro. La presidente nazionale del Lancia, Federica Brancaccio, intervenuta a Siracusa Città in Scena Festival della Rigenerazione Urbana, ha affermato La rigenerazione urbana è il futuro di questo paese. Al sud ci sono meraviglie da riqualificare. Dopo il PNRR dovremo essere pronti a investire sulle nostre città, sulle relazioni urbane e sociali e non solo economiche. A seguito della riprogrammazione dei fondi del PNRR forse c'è qualcosa di più di un miliardo a rischio. Dobbiamo scongiurare questo pericolo, conclude Brancaccio. A stretto giro di posta è intervenuto in replica il ministro alla PNRR, Raffaele Fitto, che smentisce e controbatte. In relazione alle preoccupazioni del Lancia e relativi agli investimenti PNRR nella regione Sicilia, ancora una volta siamo chiamati ad intervenire per ristabilire una corretta informazione e per tranquillizzare le imprese e i cittadini in quanto non vi è il rischio di nessun taglio di risorse. E' quanto mai auspicabile da parte di Ance una maggiore attenzione sull'attuazione del piano che procede secondo il cronoprogramma prestabilito, con l'ultima azione della progettazione esecutiva delle opere e la conseguente apertura dei cantieri. Ad oggi la riuscita del piano dipende soprattutto dalla capacità delle imprese di realizzare gli interventi nei tempi previsti, nel pieno rispetto dei criteri e delle condizionalità del PNRR. Un elemento molto rilevante, come sapete la Commissione Europea...